E' stato presentato questa mattina nella Sala Giunta del Territorio Cittadino il progetto Rigiochiamo, iniziativa ecologico-solidale-educativa promossa dal Comune di Pordenone in collaborazione con GEA, SPA e Fanta Ambiente, società di comunicazione ambientale di San Vito al Tagliamento. Progetto che si concretizza principalmente in due fasi, donare giocattoli vecchi che possono essere riutilizzati e riciclare quelli rotti da avviare alla raccolta differenziata, in particolare la plastica con cui sono costruiti. Il progetto Rigiochiamo, oltre a stimolare la crescita culturale e la coscienza ambientale degli alunni, favorisce concretamente il riciclo e il riutilizzo dei materiali. In particolare i giochi che oggi vengono a casa gettati via, nonostante possano essere riutilizzati, se portati a scuola vengono ricondizionati e vengono riconsegnati a persone bisognose che in questo modo li possono utilizzare. Anche i giocattoli in plastica, prevalentemente in plastica, che a casa vengono gettati via e che non essendo degli imballaggi finiscono nel rifiuto seco residuo e quindi in discarica, se portati a scuola verranno avviati al riciclaggio. In questo modo la plastica potrà essere recuperata e riciclata per realizzare dei nuovi oggetti. Per l'anno scolastico 2013-2014 già 23 istituti scolastici hanno aderito alla proposta avanzata alle direzioni didattiche cittadine. Si tratta di un progetto che coinvolge i bambini, i genitori e la scuola. Interessante poi tutta l'attività didattica che il progetto propone alle scuole per insegnare ai bambini proprio come riutilizzare il giocattolo e come crearsi un giocattolo con dei pezzi che vengono normalmente gettati.